Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente si registrano due chilometri di coda tra Calenzano VI Fiorentino e Il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Da segnalare un chilometro di coda sempre a causa di un incidente e sempre in direzione Bologna anche tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. Sul loro accordo Sena-Firenza ancora a code a causa di lavori tra Poggi Bonsi Sud e Colle Valdelsa Sud in direzione Siena. In Fipili sempre a causa di lavori un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze e possibili rallentamenti in direzione Livorno. Possibili rallentamenti per lavori anche in A15 tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!